La tendenza del flemmatico è di caricarsi, caricarsi, riempirsi, riempirsi ma non quasi riuscire a scaricarsi. E questo avviene quando sviluppa un poco di interesse per il mondo che è bello. C'è una certa gioiosità, penso io nel flemmatico, nel potersi muovere in uno spazio. Che cosa fa bene al flemmatico? Camminare così porta a un flemmatico veramente quasi a faticare, occorre così tanta forza. Bisogna portare le forze di volontà verso l'esterno per poter vedere il mondo con interesse. Vorrei dire avere efficacia, percepire, percezione, questa percezione, questa percezione, quello che dà un senso alle forze di volontà è il senso, la meta. Come esercizio ritmico potrei consigliare che si possa collegare l'interesse che si ha dentro facendolo scorrere fino alle gambe, fino ai piedi, sentendo contemporaneamente la propria grandezza interiore e si possa portare fino alla meta senza perdere le forze di luce interiori che vanno collegate con le forze della terra. Il prossimo passo si porta ancora verso le gambe, si sente la meta nelle profondità, prossimo passo ancora portare avanti, scorrere verso l'esterno, arrivare. si può veramente portare il passo verso l'alto e poi ancora scorrere verso il basso, che ci sia una bella corrente. Se questo si fa per un certo tempo, si può fare anche mentre si passeggia, si può rimanere fermi ed ascoltare, perché non è importante quanto viene fatto in un modo preciso o perfetto, ma ciò che si riesce a stimolare perché ciò che è stato attivato a poco a poco sarà a vostra disposizione come qualità. Grazie a tutti.